che leggeremo questa sera come accennavo è tratto dal volume 22 ed è un brano del 15 agosto del 1927 lo leggiamo insieme e poi lo proviamo a commentare un pochino continuavo il mio giro nel volere supremo e siccome prima avevo offerto i primi atti di adam quando possedeva l'unità col volere supremo per potermi unire anch'io a quegli atti perfetti che fece nel principio della creazione poi passai ad unirmi all'eroismo di abramo e pensavo tra me che sapienza divina di adamo si dice solo che fu il primo uomo creato da dio che peccò e gettò l'umana famiglia nel labirinto di tutti i mali e poi in tanti anni che visse non si dice più nulla di lui non poteva nostro signore ritornare a fare qualche altra prova a chiedergli qualche altro sacrificio per provare la sua fedeltà e mentre adamo viene messo in obbligo chiama abramo e provandole trovandolo fedele lo mette in vista lo fa a capo delle generazioni si parla di lui con tanta gloria e onore ora mentre ciò pensavo il mio dolce gesù si è mosso nel mio interno e mi ha detto audite audite figlia mia sono le disposizioni della mia sapienza infinita ed è mio solito che quando chiedo alla creatura un piccolo sacrificio per il suo bene ed essa ingrata me lo rifiuta non voglio più fidarmi di lei smetto i miei disegni di elevarla a cose grandi e la lascio come creatura dimenticata che nessuno ha dita né per opere grandi né per eroismo né per dio né per sé né per i popoli poi tu devi distinguere quello che voli da adamo il piccolo sacrificio di privarsi di un frutto e non mi fu accordato come potevo fidarmi di lui e chiedergli un sacrificio più grande invece ad abramo non chiesi come sacrificio un frutto ma prima gli chiesi di andare in terra straniera dove non era nato e prontamente mi obbedì e poi voli fidarmi di più di lui lo fece abbondare di grazia gli chiesi il sacrificio del suo unico figlio che amava più di se stesso e lui prontamente me lo sacrificò in questo con obbi a prova che potevo fidarmi di lui che potevo affidare tutto a lui si può dire che fu il primo riparatore a cui veniva affidato lo scettolo del futuro messie e perciò lo elevai a capo delle generazioni con grande onore di dio di se stesso e dei popoli questa vicenda è molto istruttiva perché mentre come vedremo nel brano seguente come dire c'è un'esaltazione di adamo per quello che ha fatto prima quindi la figura di adamo va sempre un pochino guardata nel suo complesso nel suo insieme e qui però insomma si mostrano chiaramente le conseguenze anche per sé devastanti di quello che adamo fece e qui mi raccomando senza farsi prendere dalle ansie senza farsi prendere dai turbamenti dagli sconforti dal tutto quello che vogliamo però dobbiamo anche prendere coscienza di alcune dinamiche diciamo così che sono proprie dell'agire di dio nei nostri confronti che sono per un verso bellissime avvincenti entusiasmanti ma per l'altro cariche di responsabilità allora qui noi dobbiamo metterci in testo una buona volta nella nostra esistenza parlo a me per primo evidentemente di vivere da uomini da uomini liberi da uomini che sono coscienti della responsabilità delle proprie azioni cioè se vado in una direzione se vado in un'altra è a cipicchiare la vita cambia da così a così cioè tanto e se io dio secondo il nostro modo di parlare ma il senso di quello che qui Gesù dice è questo lo deludo e non si fida più di me e non si fida più di me noi sappiamo che anche tra noi esseri umani il discorso della misericordia e del perdono è un altro discorso attenzione eh allora tra noi esseri umani diciamo che c'è qualcosa di simile che ce lo fa capire cioè se una persona fa una cosa brutta proprio brutta d'accordo che in qualche modo mi coinvolge ma non è soltanto una cosa personale è proprio una cosa brutta d'accordo che mi che me la fa proprio calare capito cioè si dice così dalle nostre parti a a Roma quello mi è calato allora non è che cioè tu poi ti penti per carità perdono tutto quello che vuoi ma se mi sei calato mi sei calato cioè io non 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 mi fido di ridarti un'altra volta fiducia se ne è fatta una grossa che ha proprio tradito la fiducia e la stima che io ho di te capite la riconciliazione non c'è problema il perdono non c'è problema quando uno perde la fiducia è un problema quello è un problema perché tu ti sei dimostrato inaffidabile quindi non è che non te voglio bene proprio perché te voglio bene evito di rimetterti in condizione e di annaf comina altro guaio capite quindi questo vale anche per noi comuni mortali allora qui Luisa si chiede ma com'è che Adamo ha fatto un guaio del resto della vita non si sa più niente si caino a belle ma sono costo sono caino a belle sette ma sono un po incidenti no ma dopo il terzo capitolo della genesi la storia da Adamo è finita com'è e invece Abramo insomma che non è insomma allora Gesù spiega allora è mio solito che cosa aveva chiesto Adamo in effetti no che cos'era la prova di Adamo perché Dio ha voluto provare questo è un perché che possiamo chiedercelo non perché vogliamo andare a fare il gioco del perché c'è un passo che tra l'altro mi pare l'ultimo capitolo del del libro del del volume ottavo lui sa che dice che il perché è la domanda di quella stricato l'inferno perché a Dio non si chiedono i perché ora certamente un conto è non chiedergli perché a Dio un conto è non interrogarci come dire umilmente su alcune dinamiche semplicemente per conoscerlo meglio non certo per metterci a indagare sui suoi disegni o tante cose no noi sappiamo per certo che Dio ha messo alla prova sia gli angeli che gli uomini Lucifero è caduto e Adamo è caduto qual era il senso di questa messa alla prova Dio voleva vedere se poteva fidarsi di loro se poteva dargli il premio che gli prometteva e questo è la come dire la dimostrazione più piena della realtà profondissima della libertà delle creature intelligenti lo è ad Adamo era chiesto un piccolo sacrificio attenzione qui Gesù si adegua al linguaggio voi sapete che il peccato originale è stato sempre presentato come il frutto proibito anche nel libro della Genesi di tutti gli alberi che puoi mangiare ma non dell'albero della conoscenza del bene e del male ecco ma per favore ragazzi e ragazze che cioè mica penseremo l'ho detto già tante volte no il pommo di Adamo insomma no o la mela mozzicata che è una nota fabbrica di strumenti elettronici insomma ha scelto come stemma forse anche in maniera secondo me a me neanche troppo forse un po' provocatoria no un po' irriverente come vogliamo dire un po' di ecco di quasi di volerne fare un emblema trasgressiva d'accordo ma guardate che il peccato originale non mangiasse una porra mela ecco quindi certo cioè in confronto noi dobbiamo immaginarsi che Adamo lo vedremo nel paragrafo seguente aveva una vita cioè cioè c'aveva tutto c'aveva cioè certamente c'era una cosa che il signore gli aveva chiesto di non fare ma capite tu immaginati che per quello gli aveva Adamo quindi con il possesso del regno della divina volontà vuol dire che tu puoi fare tutto cioè vuol dire che tu c'è la libertà che non ci va verso il male capito quindi tu puoi fare veramente tutto l'unica cosa che non puoi fare è proprio quel limite e quella certamente cosa concreta che credo ti avrò già detto anche in questo ciclo di di catechesi quella che a mio avviso rimane l'ipotesi più attendibile anche perché ampiamente come dire difesa nel corso della storia della chiesa anche se ed è tutto opinabile ma non si tratta quindi di un pomo di Adamo in ogni caso anche se non si tratta di un pomo di Adamo era una cosa capito una cosa dinanzi ad una ricchezza stratosferica capito cioè dici proprio dai quindi grossa quanto una casa quella che hai fatto proprio perché era una cosa capite proprio a sfrugugliare capite proprio anche la come dire la la nefandezza insomma la gravità la bruttezza di questo gesto no è vero che altrove Gesù fa l'avvocato l'abbiamo visto nelle puntate precedenti nel senso che non bisogna puntare il dito perché comunque lui non si rendeva conto a differenza di Lucifero delle conseguenze del suo atto non aveva l'esempio di qualcun altro che avesse fatto qualche stupidaggine del genere quindi non 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 poteva rendersi conto prima delle conseguenze devastanti di quella di quella trasgressione che avrebbe fatta in ogni caso la fatta e Gesù qui dice misericordia verso Adamo certo e nel capitolo seguente lo vedremo spiega anche perché dimenticanza della della bontà di quello che Adamo aveva fatto prima assolutamente no ma tu hai perso la fiducia tu hai perso la fiducia Gesù dice è mio solito che quando chiede alla creatura un piccolo sacrificio che tra l'altro è per il suo bene ed esse in grado non lo rifiuta non voglio più fidarmi di lei non si fida più nostro signore ecco perché anche anche a noi prima di affidarci lui ci prova ci saggia controlla smetto i miei disegni di elevarla a cose grandi terribile questo qui capite cioè uno può fare io quando quando ascolto queste cose come dire ripeto la riflessione la ponderazione anche su cose molto serie va fatta nella divina volontà che significa cioè va fatta prendendo queste parole sul serio d'accordo sul serio e meditandole considerandole e senza farsi come dire venire l'angoscia o il patema o il patema in animo smetto i miei disegni di elevarla a cose grandi e la lascio come creatura dimenticata che nessuno ha dire né per opere grandi né per eroismo né per Dio né per sé né per i popoli e qui invece emerge la grandezza di Abramo Abramo padre padre nostro anche e padre di una moltitudine di popoli nella fede Abramo è evidentemente un emblema quanto meno di chi fa la divina volontà perché Abramo ha fatto degli eroismi grossi fidandosi e affidandosi al Signore noi sappiamo che per viverne la divina volontà una dimensione fondamentale è l'abbandono l'abbandono proprio mi abbandono mi metto nelle mani di Dio rinuncio a capire rinuncio a chiedere i tanti perché e obbedisco capiamo quindi Abramo vattene dalla tua terra dalla casa di tuo padre attenzione non verso la Palestina già sarebbe verso un paese che io ti indicherò noi dobbiamo stare una settimana a meditare su questa roba qui cioè Abramo è vissuto circa all'incirca secondo la tradizione biblica quasi duemila anni prima di Cristo intorno al 1850 secondo gli esegeti più attendibili insomma intorno a quel periodo lì ma noi ci rendiamo conto cosa fosse nel 1850 con un tipo di economia legata esclusivamente all'agricoltura all'allevamento lasciare la propria terra da Ur cioè nell'attuale Iraq Mesopotamia partire per andare verso un paese che ti indicherò perché questo paese è stata l'attuale Palestina cioè è follia solo pensarlo a una cosa del genere follia all'età che aveva Adamo Adamo non era un ragazzino Abramo non era un ragazzino sua moglie non poteva già più avere figli quindi non era un ragazzino cioè capite questa è la prima ce ne sono ne possiamo dire tre di Abramo ma ce ne sono molte di più la seconda vecchio la moglie sterile un bel giorno Dio lo porta fuori della terra e dice alza un po' gli occhi al cielo guarda le stelle del cielo sei capace a contarle no tale sarà la tua discendenza e questo è il passo su cui poi nel Nuovo Testamento San Paolo fa tutte quante le sue grandi lodi della fede passi purtroppo storicamente anche malinterpretati e fraintesi comunque non ci interessa non abbiamo certamente tempo di parlare di questo adesso e Abramo credette in cuor suo a quello che Dio gli stava dicendo e Dio glielo accreditò come giustizia pare poco crede una cosa cioè capite attenzione che per esempio l'atto di fede Dio ce lo vede nel cuore Dio lo sa se tu ci credi o no tante cose ti pensi che non lo sa tu vai a fare la comunione ma Dio lo sa se tu ci credi che Gesù Cristo è presente lì capito cioè tu puoi ingannare un uomo può anche raccontarti le balle a te stesso ma Dio te lo vede il cuore quindi quando dice Abramo credette in Dio e Dio glielo accreditò come giustizia quello ci ha creduto sul serio e come fai e credi una cosa del genere che tu hai 90 anni e tua moglie ce n'ha 70 quanti ce n'aveva cioè da dove viene la discendenza come le stelle del cielo soltanto che dalla divina onnipotenza tanto è vero che poi si vede anche come Abramo non era proprio un figlio della divina volontà al 100% almeno a un certo punto dice passa qualche tempo sto figlio non veniva dice ma insomma dobbiamo dare un piccolo aiutino insomma alla divina volontà perché mia moglie è sterile e quindi si unisce alla sua schiava ad Agar e fa nascere prima Ismaele di Disacco no? ecco quindi l'input gliel'abbiamo dato il resto lo farà nostro signore che farà moltiplicare Ismaele come le stelle del cielo ma il nostro signore poi gli appare gli fa Abramo no? ci siamo sbagliati questo non è figlio della promessa questo è figlio della schiava io ho detto che dà la tua discendenza legittima e poco dopo Sara concepisce Isacco viene chiamato Isacco perché significa in ebraico c'è il radicale del verbo ridere perché la moglie stessa si è morta dalle risate quando Abramo ha detto guarda che il nostro signore ci darà un figlio si pepe pepe diremmo oggi no? ecco capite ma poi non è finito qui perché poi quel figlio quello cioè immaginate la faccia che ha fatto Abramo a vedere se un figlio a quell'età cioè la sua discendenza Dio chiede di sacrificare quel figlio attenzione già aveva ammonito Abramo io lo dico sempre quando faccio le categorie sui commenti su Abramo già aveva ammonito Abramo dice guarda quando arriverai nel paese che ti indicherò che era la terra di Canaan lì c'erano i folli primitivi che immolavano i sacrifici umani a Moloch uno fra i tanti Moloch è un demone tra l'altro è il nome di un demone ok e Dio disse ad Abramo o te verrà mica in mente di fare quegli abomini che fanno quelle persone quelle cose sono un abominio ai miei occhi quindi mi stava dicendo non te venisse in mente di fare un sacrificio umano eh a non solo che chiede il sacrificio umano ma del figlio ma non solo del figlio del figlio della promessa cioè del figlio nato miracolosamente voi sapete che sul sacrificio di Sacco hanno scritto fiumi di inchiostro esegeti interpreti cattolici protestanti per esempio tra i protestanti un grande filosofo Kierkegaard ha scritto tutte le cose bellissime commentando il sacrificio di 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 Sacco ma in tantissimi insomma d'accordo perché questo rimane una pietra miliare nella storia della della religione nella storia della fede perché questa è una cosa allucinante insomma eh Dio si poteva fidare ad Abramo è a cipicchia a cipicchia puoi fidarti di lui c'è una canzone degli degli stadio che fa puoi fidarti di me quindi certo che puoi fidarti di lui ecco quindi questo stile Dio ce l'ha quindi ti saggia ti sonda io devo devo vedere se mi posso fidare di te e tu questa dimostrazione gliela devi dare al nostro Signore ecco io personalmente posso fare una piccola glossa ecco non è che voglio fare una glossa di consolazione Adamo l'ha fatta grossa nella condizione in cui si trovava è chiaro che noi comuni mortali noi esseri umani può anche succedere che il nostro Signore come dire prima di fidarci di noi come dire ci sbatacchi un pochettino e permetta anche come dire che facciamo qualche sciocchezza per conoscere un po' meglio il nostro cuore ecco però poi comunque prima di affidarci qualche cosa di serio anche se tollera qualche defiance dovuta alla nostra miseria non alla nostra malizia miseria le debolezze questi qui non sono problemi poi però a un certo punto deve verificare che profidarsi di Deo su questo noi dobbiamo fare molta molta attenzione quindi quando siamo messi alla prova da nostro Signore glielo dobbiamo dimostrare ma come devo dimostrarlo perché lui non lo sa certo che lo sa ma tu esercitando adeguatamente la tua libertà devi farglielo vedere d'accordo cioè perché l'azione per noi comuni mortali è risolutiva perché è quello che determina realmente il nostro posizionarci e il nostro essere il nostro rapportarci con è l'azione quello che è fatto concretamente bene non vorrei dilungarmi troppo perché stiamo già andando un pochino avanti il secondo brano è molto lungo quindi passiamo subito e direttamente al volume ventitresimo 2 ottobre 1927 questo è un brano stupendo lo leggiamo è abbastanza chiaro non necessiterà di molto commento quindi non dovremmo dilungarci troppo passo immediatamente alla lettura stavo facendo il mio giro nella creazione per seguire tutti gli atti della divina volontà che sono in essa e giunta nell'Eden dove Dio creò il primo uomo Adamo per unirmi con lui a quella unità di volontà che possedeva con Dio e nella quale faceva i suoi primi atti nella prima epoca della creazione pensavo tra me ma chissà che santità possedeva il mio primo padre Adamo e quale valore contenevano i suoi primi atti fatti nel regno del fiat divino e come posso io impetrare di nuovo sulla terra un regno così santo essendo solo io occupata per un così grande bene qui Luisa faccio una cosa subito mettiamoci anche un attimo nei panni di questa donna a cui Gesù ha detto guarda che tu sei la prima a cui io dico queste cose cioè come da sola io mi trovo a vivere sì cioè ha dovuto insomma passare per una bella per una bella prova anche lei insomma no vabbè ma mentre ciò pensavo il mio sempre amabile Gesù è uscito dal mio interno e mandava raggi di luce quella luce si convertiva in parole e mi ha detto figlia mia figlia mia primogenita della mia volontà come figlia di essa voglio svelarti la santità di colui che possedetti il regno del mio fiat divino nel principio della creazione questo regno ebbe la sua vita il suo perfetto dominio il suo completo trionfo sicché questo non è del tutto estraneo all'umana famiglia e siccome non è estraneo c'è tutta la speranza che ritorni di nuovo in mezzo a loro per regnare e dominare ora tu devi sapere che Adamo possedeva tale santità attenzione quando fu creato da Dio e i suoi atti anche minimi avevano tale valore che nessun santo né prima né dopo la mia venuta sulla terra può paragonarsi alla sua santità e tutti gli atti degli altri santi non giungono al valore di un solo atto di Adamo perché nella mia volontà divina lui possedeva la pienezza della santità la totalità di tutti i beni divini e sai tu che significa pienezza? significa essere riempito fino all'orlo fino a far traboccare fuori luce santità amore in modo da poter riempire cielo e terra di tutte le qualità divine di cui teneva il domino e si stendeva il regno perciò ogni suo atto fatto in questa pienezza di beni divini aveva tale valore che nessun altro per quanto uno si sacrifichi patisca e operi il bene ma non possiede il regno della mia volontà e il suo totale dominio può paragonarsi ad uno solo di questi atti nel regno di esse quindi la gloria l'amore che mi diede Adamo finché visse nel regno del mio divino volere nessuno nessuno me li ha dati perché lui negli atti suoi mi dava la pienezza e totalità di tutti i beni e solo nella mia volontà si trovano questi atti fuori di essa non esistono perciò Adamo aveva le sue ricchezze i suoi atti di valore infinito che egli partecipava il mio eterno volere innanzi alla divinità che gli partecipava il mio eterno volere scusate innanzi alla divinità perché Dio nel crearlo nulla di vuoto aveva lasciato in lui ma tutto era pienezza divina per quanto a creatura è possibile contenere allora mi fermo siamo a metà del brano però siccome dopo diventerebbe troppo lungo commentiamo questa prima parte che è bellissima bellissima alcuni concetti chiave numero uno siamo venuti a sapere come sempre una cosa nuova fino a oggi pensavamo che il più santo dei santi fosse San Giuseppe giusto? no dopo Maria Santissima che sta su un altro pianeta Maria Santissima va oltre evidentemente anche ad Adamo quindi non la consideriamo lei è una outsider insomma è una fuori vuota chi era il più santo dei santi? San Giuseppe? San Giovanni Battista? Gesù dice nessun santo né prima né dopo la mia venuta nessuno né prima né dopo la mia venuta può paragonarsi può paragonarsi alla santità che aveva Adamo prima del peccato originale lo sapevamo noi questo fatto qui io senza questi scritti non mi sarebbe passato nemmeno per la pre-anticamera della pre-anticamera della pre-anticamera del cervello e perché? perché nella mia volontà divina questo spiega Gesù lui possedeva la pienezza della santità la totalità di tutti i beni divini ecco perché tante volte l'ho detto in tante meditazioni in tante catechesi qui stiamo parlando perché la vita nella divina volontà è riprendere quello che Adamo faceva prima del peccato originale e Gesù dice attenzione non è del tutto estraneo la razza umana questo mondo perché all'inizio è stato fatto dal capo stipide della razza umana per cui c'è la speranza che torna a regnare e dominare c'è perché c'è già stato poi c'è una creatura un'altra creatura che è Maria Santissima in cui c'è stata ancora di più e sappiamo che Luisa è la prima creatura perché Adamo ce l'aveva prima della colpa d'origine la Madonna ce l'aveva essendo immacolata a concezione Luisa ce l'ha avuta non essendo immacolata a concezione quindi il primo prodigio è stato già realizzato dal nostro Signore però che cos'è questa vita nella divina volontà è la santità che più grande non si può immaginare perché non c'è è la santità delle santità è la pienezza della santità è la totalità avete visto cosa dice Gesù nel Vangelo una buona misura pigiata scossa e traboccante vi sarà versata nel grembo qui dice sai che significa pienezza essere riempito fino all'orlo fino a far traboccare fuori la luce la santità e l'amore cioè non ce ne puoi mettere di più la Madonna quando l'angelo la salutava Gesù disse che carito tu sei piena di grazia capito la Madonna in ogni istante della sua vita perché la Madonna è cresciuta continuamente in grazia capite però era una crescita proporzionata come dire alla sua statura quotidiana ogni giorno andava a mettere più e la Madonna stava sempre al limite nel senso che ogni singolo giorno della sua esistenza più grazia di quella che c'aveva in quell'istante non poteva avere stava proprio fino all'orlo non c'entra più capito perché per quanto grossa possa essere ed era grandissima comunque è una creatura limitata c'è un limite d'accordo c'è un limite sta molto in là il limite di Maria Santissima ma c'è un limite allora cioè capito cioè la grazia di cui riempie il Signore che vive in questo mondo è talmente grande che di più non si potrebbe mettere non per difetto della fonte perché Dio potrebbe metterla all'infinito ma per difetto del recipiente che è comunque limitato Gesù continua ogni suo atto fatto in questa pienezza di beni divini aveva tale valore che nessun altro per quanto uno si sacrifichi patisca e operi ma non possieda questo regno si può paragonare questo torniamo sempre ormai insomma chi ha ascoltato anche un po' di catechesi mie e non solo mie anche di altre persone che parlano di questo la San Memoria c'è il famoso punto d'ago dato dalla Madonna di cui parla anche San Luigi Monfort nei confronti del martirio di San Lorenzo dice vale più un punto d'ago dato da Maria Santissima che il martirio di San Lorenzo sulla Graticola dice ma stiamo scherzando no che non stiamo scherzando perché quel punto d'ago compiuto nella pienezza di santità di grazia e fuso con la divina volontà quindi essendo un atto divino è chiaro che non può essere paragonato a nessun atto umano nemmeno il più eroico il più doloroso che esiste perché comunque sia senza la divina volontà quello rimane un atto eroico ma umano quindi finito quindi limitato ordinariamente imperfetto con un atto divino mai allora altra cosa che Gesù dice sconvolgente la gloria l'amore che mi diede Adamo finché visse nel regno del mio divino volete nessuno me li ha dati ora queste parole tra l'altro fanno anche per esagire che c'è stato quindi un tempo in cui Adamo ha vissuto in questo modo quindi che il peccato originale non è stato noi non dobbiamo immaginarlo come Adamo è creato e poi subito viene subito la donna e sul giorno dopo già hanno fatto il patatrack no 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 c'è stato certamente un periodo in cui Adamo è stato solo nel paradiso terrestre a un certo punto il Signore ha generato da lui una donna perché non l'ha creata non l'ha creata dal nulla come Adamo la Bibbia dice gli prese una costola poi su questo costola c'è molto da da vedere e da approfondire su cosa sia comunque sia la derivazione della donna da Adamo fa capire che punto prima Adamo è stato nel tempo che stava solo e punto secondo la donna è stata tratta dall'uomo in ebraico tra l'altro c'è anche questo giochetto perché uomo si dice ish e donna si dice isha così come Adamo si dice Adam e terra si dice Adama capite tolto dalla terra sono queste sottigliezze diciamo così esegetici però fino a quando è vissuto in questo mondo nel regno del divino volere ha dato una gloria e un amore a Dio che nessuno gli aveva mai dato perché l'amore con cui Dio vuole essere amato vuole essere un amore simile al suo vuole essere un amore divino non umano non semplicemente umano ecco perché entrare in questo mondo è qualche cosa di oltre che di bellissimo ma di decisivo ed ecco perché come spiego sempre a volte mi fanno delle domande insomma mail su mail dicendo sì ma è compatibile con il regno della divina volontà io faccio un peccato veniale volontario e poi mi confesso ma sto ancora nel regno della divina volontà sono uscito e dico ma che è sta roba cioè ragazzi non io adesso non è che voglio cioè allora teniamo presente una cosa il regno della divina volontà è stato dal nostro signore fatto conoscere a lui se ha fatto da lei conoscere a noi non perché sia qualcosa di raggiungibile e di impossibile è possibilissimo raggiungere d'accordo è possibilissimo e è facile o è difficile a seconda del punto di vista da cui lo si guarda soprattutto a seconda dell'amore e del desiderio che si provano i suoi confronti perché se io mi sono innamorato della divina volontà e se lo desidero con tutto il cuore è facilissimo entrare perché sono disposto a fare qualunque cosa d'accordo qualunque abbiamo sentito l'esempio di Abramo quante volte io ho detto come dico prova a fare questo esercizio mettili davanti a Dio pensa a tutte le cose che hai e sacrificagliele tutte ma attenzione eh sacrifici vuol dire che se poi te le chiedi tu gliele dai intanto gliele offri tutte dice signora io per amore tuo sono pronto a rinunciare a questa cosa precisa dandogli un nome un cognome eh questa è proprio come dire la prova che Dio può fidarsi di te la prova che Dio te lo può dare questo regno perché tu veramente questo regno è la cosa delle cose capite non c'è niente che conta più di questo niente e nessuno certo una una domanda del genere ma che cosa ti ti fa capire ti fa capire che una persona del genere cioè non si come fai cioè dice voglio entrare al regno della divina volontà ho sempre detto ecco perché ho sempre sostenuto credo di non essere da solo che la con la la consagrazione monfortano la madonna la cosiddetta totus tuus è propedeutica ma la consagrazione totus tuus che non va fatta a cuore leggero perché la consagrazione totus tuus serve a diventare santi d'accordo cioè è fatto per coloro che dicono ma se che sei superbo diventa santo non è si tratta di essere superbi si tratta di fare la divina volontà siate santi perché io sono santi sta scritto nella Bibbia anche nell'Antico Testamento d'accordo siate perfetti come è perfetto il Padre vostro l'ha detto Gesù al termine del discorso della montagna quindi non essere superbi io ubbidisco alla chiamata fondamentale che il Signore ha fatto sulla vita di un battezzato questo lo insegna la Chiesa nella Lumen Gentium al capitolo quinto della Lumen Gentium concilio Vaticano II la vocazione universale alla santità ci ha scritto una bellissima lettera a Papa Francesco due o tre mesi fa d'accordo dove ribadisce fortemente questo concetto dell'importanza dell'impegno di tutti i cristiani nella santità ma è chiaro che se uno non vuole vivere la santità la santità cioè io senti qualche peccaduccio lo faccio d'accordo e se ogni tanto mi viene la tentazione che ti faccio un peccato mortale pazienza poi tanto mi va a confessare per carità d'accordo ma di che vogliamo parlare cioè dopo di dire ma se il campo così sto nella divina volontà ma che domande sono capito cioè nella divina volontà il peccato non c'è d'accordo il peccato in senso stretto non c'è San Giovanni lo dice nel Nuovo Testamento non è che lo dice Luisa Piccarreta chiunque è nato da Dio non pecca chi pecca non lo ha mai conosciuto non è il non peccare nel senso che non pecchi mai perché questo è impossibile la grazia di Dio ma è il peccato peccato il peccato mortale il peccato volontario nel senso stretto non ci può stare se tu stai in amicizia con Dio cioè tu non puoi avere un peccato a occhi aperti non è che non puoi nel senso che non è la possibilità ma non non lo fai e la grazia di Dio se tu vuoi non peccare ti aiuta sapete come diceva Sant'Agostino l'uomo non giustificato non può non peccare perché appunto è in balia del peccato originale ma l'uomo giustificato può non peccare se si sforza e se lo vuole e l'uomo glorificato andremo all'altra parte non può peccare questo è lo slogan capito quindi da non può non peccare a non può peccare passando per il può non peccare claro no? ecco quindi per entrare nel mondo della santità delle santità è chiaro che bisogna prima passare per il mondo della santità cioè è ovvio questo qui no? ma questo non è renderlo difficile o perché qui ci stanno sempre le grandi le grandi Gesù in uno scritto dice chi dice che è troppo di mente è falso perché uno che mi ama è facilissimo ma certamente uno che lo ama è facilissimo d'accordo ma chi non ha un grande amore una grande considerazione è chiaro che il sentiero della santità appare in salita perché le rinunce che comunque ci stanno d'accordo cioè rinunce reali pensiamo una persona ma non chiamo l'argomento è una persona che vuole dire dentro la santità nella santità per esempio il discorso sesso che oggi è il discorso sesso ci mette una pietra sopra d'accordo la mette una pietra sopra io dico sempre perché questa è la verità anche se è detta in maniera un po' dico allora tu vuoi vivere dal discepolo di Gesù quello che oggi il mondo lo trovi dappertutto da te non si deve stare da nessuna parte perché sull'argomento sesso ci devi mettere una pietra sopra una pietra che si apre d'accordo come quando hai visto la risurrezione solo se c'erebbe un sacramento e solo ovviamente quel sacramento tra un uomo e una donna dopodiché non c'è capito questo lo devi mettere bene in test non ci sta capito non esiste perché fuori di quel sacramento dove devi imparare anche il linguaggio umano e santo della sessualità chiusa parentesi perché pure lì dentro non è che lì dentro c'è l'abilitazione a vivere tutto quello che oggi il mondo ti propone assolutamente fuori di questo non c'è ma come fai ma questo è una rinuncia ti sembra come una rinuncia a me no d'accordo a me non manco per niente perché quando tu hai altro a cui pensare quando tu hai qualcosa di più bello di più santo di molto più dilettevole a cui pensare ma non ti pesa proprio quindi è difficile rinunciare la sessualità dipende quanto ami nostro signore quanto conosci nostro signore per niente è difficilissimo ho una fatica di sisipo d'accordo hai cominciato a conoscere un po' nostro signore di meno lo conosci bene c'è una vita intensa di preghiera ma quasi quasi come dicono a Roma ma quasi quasi ta rimbarza d'accordo cioè non senti tutto quanto questo grande peso capite non lo senti e su questo c'è stato il grande Sant'Agostino che l'ha scritto da della legge dice io Sant'Agostino li conoscevo li conoscevo e ci vedete la carne c'è un fio io vi dico un minuto di vita di unione con Dio non è paragonabile a tutti gli amplessi della carne che si possono godere in questo mondo e io li conosco l'ha scritto lui quindi facile o difficile dipende 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 capite non possiamo prendere la santità e su questo c'è ragione anche il Papa come un insieme di leggi di leggi di leggi questo non si può fare questo non si può fare questo non si può fare cioè chi ha questa percezione non conosce l'amore di Dio capito perché non è che Dio sta lì a divertirsi a dire questo no e questo no e questo no e questo no per toglieti la gioia di vivere per farti vivere come un infelice e come un derelitto ma scherziamo d'accordo cioè per un santo se tu vai a dire a un santo ma quante rinunce fai il santo che faccio le rinunce sei tu che fa le rinunce che santo non sei che ti privi delle cose più belle che esistono tu fai le rinunce non io capito questo è bene andiamo avanti prima che ci scade il tempo a disposizione finiamo la lettura onde col cadere nel peccato non furono distrutti questi atti di Adamo queste sue ricchezze questa gloria e quest'amore perfetto che aveva dato il suo creatore anzi in virtù di essi e del suo operato fatto nel fiat divino meritò la redenzione no non poteva restare senza redenzione che aveva posseduto anche per poco il regno della mia volontà bellissimo quello che dice qui Gesù cioè gli atti compiuti nella divina volontà sono stati ciò che per quanto riguarda Adamo gli ha meritato la redenzione perché basta farne uno che il nostro Signore non può più guardarti come cose strane a sé come cose indifferenti non può fare chi possiede questo regno sentite come procede Gesù entra in tali vincoli e diritti con Dio attenzione diritti con Dio diritti che Dio stesso sente con lui la fortezza delle sue stesse catene per cui legandolo non può disfarsi di lui capito dice come mai che la Madonna è l'onipotente per grazia ma eccolo perché perché se vivere nella divina volontà Dio non può non darle quello che lei chiede non può fare perché sarebbe andare contro se stesso cosa può fare Dio se c'è una cosa che non può fare non può odiare se stesso non può andare contro se stesso capite la nostra maestra adorabile si trovava con Adamo nelle condizioni di un padre che avendo un figlio gli è stato causa di tante conquiste di grandi ricchezze di gloria incalcolabile non c'è cosa che il padre possieda in cui non trovi gli atti di suo figlio dovunque si sente risuonare la gloria e l'amore del figlio suo ora questo figlio per sua sventura cade in povertà ma può mai il padre non aver compassione di suo figlio se sente comunque dappertutto l'amore la gloria le ricchezze con cui lo ha circondato il figlio suo figlia mia Adamo col vivere nel regno della nostra volontà era penetrato nei nostri confini che sono interminabili e dovunque aveva messo i suoi atti la sua gloria il suo amore per il suo creatore come figlio nostro quei suoi atti che metteva ci portavano le nostre ricchezze le nostre gioie la gloria e l'amore nostro l'eco suo era risonante in tutto l'essere nostro come il nostro nel suo ora vedendolo caduto in povertà ma come poteva sopportare il nostro amore di non aver compassione di lui se la nostra stessa volontà divina ci guerreggiava amorosamente e perorava per colui che aveva vissuto in essa o potenza del mio fiat divino operante nella creatura che facendosi investire dalla sua luce non gli dicusa il suo dominio e il suo regno e se Adamo meritò compassione fu perché la primavera della sua vita fu nel regno del volere divino attenzione se la sovrana celeste che parla della madonna potete ottenere ancorché fosse sola la venuta del verbo sulla terra fu perché diede libero a campo al regno del fiat divino in lei se la mia stessa umanità pote formare il regno della redenzione fu solo perché possedeva tutta l'integrità e l'immensità del regno dell'eterno volere perché esso dovunque si estende tutto abbraccia tutto può ne c'è potenza contro di esso che possa restringerlo sicché uno solo che possiede il regno della mia volontà vale più di tutto e tutti e può meritare di impetrare ciò che tutti gli altri insieme non possono meritare e non tenere allora io concludo che siamo arrivati vogliamo per favore meditare su queste parole e facciamo come prima no ecco ad abbramo è stato detto contappo le stelle del cielo tale sarà la tua discendenza ci credi tu qui Gesù dice uno solo che possiede il regno della mia volontà uno uno che ha ascoltato questa catechesi in diretta o indifferita uno o anche chi lo sa chi l'ha fatta speriamo uno vale più di tutto e di tutti attenzione può ottenere ed impetrare ciò che tutti gli altri insieme non possono meritare chi è il più grande benefattore dell'umanità sentiamo chi è stato secondo me la madonna giusto e come mai che la madonna è il più grande benefattore dell'umanità perché ha vissuto in questo regno tu sei preoccupato del governo dello spread che non si parla di altro sei preoccupato della chiesa degli scandali nella chiesa di tutto quello che ti pare che cosa possiamo fare che cosa possiamo fare uno solo che vive nel regno della divina volontà uno può meritare di impetrare ciò che tutti gli altri insieme non possono meritare di ottenere supponiamo che uno vive nel regno della divina volontà e sta obbedendo a quello che sta dicendo il pavva fai il rosario e mettici la preghiera a San Michele e il Suttum Presidium fine cioè il demone può pure annassere in pensione capito se questo che dice Gesù qui è vero quindi ci credi o non ci credi ecco perché cioè io quando conobbi questi iscritti qualcuno poi si stupisce che insomma io queste cose io ci ho creduto cioè non è che l'ho capita subito cioè qui non si tratta di vabbè una cosa carina una nuova spiritualità d'accordo un nuovo percorso bello famolo no no questo è molto di più non è cioè a quello che Gesù dice molto di più qui se tu prendi sul serio queste cose produci la massima quantità di bene possibile per te e per tutti che più di questo non lo puoi fare e questo come adiempiendo perfettamente perché questo ti cambia niente nella vita i doveri dello stato di vita in cui ti trovi quindi concretamente oltre che agli atti che si fanno nella divina volontà che poi si impara a farli ma concretamente fatti santo lì dove ti trovi non ti mettere a fare chi può pensare che si sa che cosa ma dentro questo regno tu esplori si esplori capito cioè immaginate un digiuno fatto da chi vive nella divina volontà ma quanto varrà gli occhi di Dio una penitenza hai visto le storia fatte dai grandi santi no erano grandi penitenze e se ne facesse uno di quelli uno fuso con la divina volontà e quanto vale quella cosa gli occhi di Dio quanti peccati e spia e quanti grazi ottiene capite perché tutti quanti quegli atti cioè capito se fa una grossa penitenza uno che viene nella divina volontà come se l'avesse fatta Gesù Cristo quasi come se l'avesse fatta la Madonna in un certo senso in un certo senso misterioso ma vero perché è comunque fuso con la volontà divina quindi quell'atto è fatto proprio da Dio stesso quindi con quale forza sale al cospetto di Dio grandissima il problema è che uno ci crede o non ci crede io chiedo la Madonna Fatima disse siamo nel mese del rosario quindi mi fanno una conclusione doverosa con il rosario in mano non esiste problema difficoltà o punto di sfracellamento che non si possa risolvere compresi cataclismi guerre terremoti tsunami catastrofi naturali tutto quello che ti pare ma ci si crede o non ci si crede vi dico non faccio il nome un teologo famoso disse commentando questo se con il rosario in mano magari bastasse il rosario perché gli sono avuti i problemi della chiesa e del mondo posizione legittima ma posizione contrastante con quello che la Madonna ha detto siamo sicuri che tanti guai non sono successi anche nel mondo perché di rosario ne abbiamo vedete un po' pochi forse così dinanzi a questo c'è chi ci crede e chi non ci crede ma crederci determina delle grossissime prese di posizione perché se io ci credo che il rosario smuove il mondo ma io può cascare il mondo ma io il rosario lo dico e lo dico intero tutti i giorni mi invento qualcosa non dormo la notte non magno ma lo dico se ci credo sul serio può succedere certamente anche qui la giornata diciamo un granosalisi se io credo che nella divina volontà ripeto può meditare di impetrare ciò che tutti gli altri messi insieme non possono meritare né ottenere ma cioè ma che ma che ci stiamo ancora a pensare ma non ci sta niente da da pensare certo uno è liberissimo padronissimo queste queste non sono cose di fede divina e cattolica tu non ci credi fa vinta da niente ma se ci credi c'è una chiave risolutoria di tante situazioni bellissima alla portata di tutti qui non si tranno bisogna essere niente bisogna tanto averci tanta voglia di amare Gesù e la Madonna e di diventare santi basta non serve nient'altro poi il resto si impara attraverso gli scritti piano piano non serve nient'altro bene con la speranza che ogni volta che ci incontriamo in queste sedi anche per chi parla di queste cose che per me non è un privilegio poter leggere e commentare questi scritti possa crescere il desiderio e possano anche aumentare gli atti che ci introducono dentro questo beatissimo e felicissimo regno appuntamento alla prossima puntata miei carissimi la mia benedizione Fiat Ave Maria